Ma come la vedo stasera ragazzi, in teoria sulla carta non dovrebbe esserci partita Quindi io spero che possa essere una passeggiata di salute Cosa fa gatti? Cosa fa gatti? Cosa fa gatti? Stiamo scherzando? Ma stia... No Aspetta, aspetta, aspetta Mi devo dare un pizzicotto perché credo che non sia successa davvero questa cosa Cioè è successa davvero questa cosa? No aspetta, fatemi capire cosa cacchio è successo qui Ma cosa fa? Ma perché Pippo Inzaghi quando viene allo stadium deve avere un regalo dei nostri giocatori per fare gol? Però la cosa che a me dà veramente fastidio È che questo non è un errore Che ne so Perdi la palla al limite dell'area Perché ti pressano? Cioè questo è proprio un errore da staccare il cervello Perché proprio te lo dicano in qualsiasi categoria che quella palla non va messa lì se sei un difensore Mamma mia Pippo Inzaghi bestia nera della Juventus allo stadium Ma io sono collegato con l'antenna eh Avrò l'antenna in ritardo, cosa vi devo dire? Ma ne chiamo l'antennista Madonna chiesa, li salta tutti davvero Cambiato? Sì Dai Fabione Dai Fabio Dai Fabio Che non vedeva il campo da secoli Da secoli Ma sono in ritardo ancora? Ah ragazzi non so cosa dire Allora proviamo a cambiare Togliamo Togliamo Team Vision Vado sullo streaming Arrivo No Team Vision l'ho attaccato con l'antenna Quindi non dovrebbe essere in streaming Eh non parte Io vedo Ecco Eh la tv l'ho tolta Ho messo un terzo schermo Comunque la reazione c'è stata eh Madonna ragazzi Ma no ma come devo effettuare l'accesso? Ma non puoi dirmi questa cosa Ma come l'accesso? Dove vai il micio? Calcio di rigore Calcio di rigore Gatti rimedia il suo errore Adesso io non guardo la chat perché siete avanti Tutti i modi di rimedi Non vi guardo È talmente pasta sta partita che va a finire che lo sbagliamo La palla viene riposizionata Ah invece non è il rigore Ma che partita eh Sapete cosa faccio? Aspetta Ok Ora ho la televisione Ora dobbiamo collegarla Però devo capire come guardarla Chissà dove è il telecomando della televisione però adesso Dove posso averlo nascosto? Cerchiamo subito Oh Mi guardo Una bella partita per terra Perché comunque La televisione è per terra Ecco L'abbiamo alzata Perfetto Sono nel futuro Adesso ve la spoilerò io Come facciamo? Eh? Come facciamo? È l'una di notte Sto editando la live reaction Per fartela avere Domani mattina presto E se non lascio un mi piace Non arriviamo almeno a 2000 like Siete dei vostri Grazie Cioè questa squadra È un 4-3-3 Volendo anche Con questi stessi 11 Cambiasso Se lo merita Cazzo Se lo merita lui Se lo merita la grande Aveva fatto un partitone Fino adesso Se lo merita Completata Vince la Juventus ora Per la prima volta In questi 35 minuti L'anno scorso Dici Vabbè Con Costi Titolare Eiling Che cresce sotto Dice quest'anno dici Madonna Costi C'è Irriconoscibile Eiling Ha perso il talento Come in Space Jam Cioè Chiesa Gli ha saltati tutti Quanto ha dribblato stasera Mamma mia Danielino Rugani Chi è che aveva Che era Gatti Prima E ancora una volta Dai piedi di Chiesa Decimo gol Con la Juve per Rugani Chiesa ha fatto una super giocante Anche qua È vero È vero Rugani battono sempre addosso il pallone È vero Poi oh Rugani ha fatto un gol D'attaccante Siamo andati sotto E ora siamo avanti Di più di un gol È successo di tutto stasera E comunque il gol degli attaccanti È ancora zero Ci manca un gol degli attaccanti adesso Per metterle insieme tutte Tutte le cose Un gol degli attaccanti Forse voi non ve lo ricordate Ma noi abbiamo perso Una sfida con il Milan Gol di Gattuso 1-0 Di sinistro a fuori aria A Buffon Forse 10-11 Quindi c'era Allegri in panchina nel Milan? C'era Allegri in panchina nel Milan? No c'era Forse c'era Allegri C'era Allegri C'era Allegri C'era Allegri Juventus 0 Milan 1 Gattuso 1-0 Sì Ildis e Weah Vediamo se andiamo Con due giocatori dietro Milik Vediamo se toglie un attaccante No Toglie Chiesa Dai mister Dai mister Che Che delusione Che delusione Va bene Doviamoci Ildis Mi vetti Dalla Ildis Dalla Ildis Dalla Ildis 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 Ha fatto gol Autogol Gol di Ildis Ma è autogol È la prima linguaccia allo stadium Che paratona di Fiorillo Che paratona di Fiorillo 4-1 Dalla Ildis Bravo bravo Milik a dare questa palla È stato veramente bravo Aveva paura Allegri aveva paura Ha detto sul 3-1 No non c'è Sul 4-1 Ma sì dai non c'è È un uomo che Che vive il mondo Tutto a modo suo Allegri Inutile Tutto a modo suo Beh se si fanno 4 gol Andando in svantaggio Dopo un minuto Spero di dare la palla Sempre così gatti Oh no Mi sono reso conto Adesso che devo creare Una nuova grafica Per le pagelle di Nonge Perché non ce l'ho Non c'è ancora Mani ci sarà Non c'è la grafica No non c'è proprio la grafica Non c'è E se non c'è Non c'è Mi dissocio Un bel gol Facciamo la manita Siamo andati in svantaggio Più di un gol di scarto Degli attaccanti C'è Questo sarebbe Perfetto Un altro bel gol Questo Questo Ildis Questo Ildis Questo Ildis Non c'è problema Ora smettiamo con l'oglio Ok ho capito Non c'è la possibilità Di terminare Ma cosa fa Ildis? Cosa ho appena visto? Cosa ho appena visto? Ma ma stiamo scherzando? Ma ragazzi Ma li salta tutti? Ma li salta tutti? Non ho parole? Ma rega Ma col tunnel No vabbè Aspetta 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 Ah no Non è un sogno? Non c'è storia È troppo forte Non c'è storia Mio padre Mi sta mandando Ancora gli screen Basta papà Basta Ti prego Basta Ma in che senso? Ma in che senso? Ma cosa vuol dire? Ma ragazzi Ma cos'è la fiera dei gol? Cioè Abbiamo finito i gol Per questo gennaio Abbiamo finito i gol Per gennaio Non ci sta neanche La grafica dei gol Non ci stanno più i gol Vincendo a Juventus Che cosa vi devo dire? Che altro vi posso dire? Non è niente Boh Prima di iniziare Mio padre Mi ha mandato un'altra foto Basta papà Basta Smetti Mio padre Tra l'altro non mi segue Non ha schiacciato il segui Non fate come mio padre Lasciate il segui Lasciatelo Mio madre Mio madre Di commento